Allora, iniziamo con forza Cagliari, comunque si è andata. Diciamo che sono contenta solo di una cosa, che ogni volta ci sono questi pessimisti che dicono che perdiamo con 10 gol di scarto. Ma dove siete? Siete tifosi del Cagliari o cosa siete? Comunque, allora, Farago, appena comprato, è entrato, qualcosina l'ha fatta vedere, ma sicuramente è entrato troppo poco. Poteva anche segnare, non ha segnato e vabbè. Sono troppo arrabbiata di questo arbitro perché a mandarci via Joao così e mancarci due settimane in un casino. Non devo dire parolacce, ormai mi è uscita. Barella, Joao, ma come facciamo? Non è possibile. Arbitri così, non ci devono stare, non ci devono stare. Giuda, Guida, come ti capo così, Zerbira. Nicolo Barella sempre meglio. La squadra la vedo meglio di settimana in settimana. Cosa vi devo dire? Peccato che non ha segnato Borriello. Vanno bene i cambi, perché i cambi si dovevano fare. Secondo me Diego ha corso tutta la partita, è uscito in quel momento, perché ci sono sempre murrungioni per ogni cosa. Comunque, forza Cagliari. Riempiamo lo stadio domenica, il Presidente ha messo i biglietti in tutti i settori a 10 euro. Perciò riempiamo lo stadio. E se la Lega ci dà pure la Nord da metterci bambini, finalmente, perché i bambini servono nello stadio. Forza Cagliari, ciao a tutti. Spengo, Mila. Forza Cagliari. Spengo. Spengo.